Amare i figli Abbiamo potuto notare che c'è molto interesse e questa tematica è bene approfondirla ancora questa sera, andare un pochino avanti su questi argomenti. Anche questa sera ne parliamo con due psicologi, questa sera abbiamo con noi il dottore Mauro Rossetti e lo psicologo dottor Roberto Magurno e affrontiamo una tematica di supporto un po' a quello che abbiamo iniziato a dire la settimana scorsa. Per chi di voi ha avuto occasione di ascoltare la precedente trasmissione si è parlato della dipendenza affettiva e delle correlazioni con l'ansia da separazione. L'ansia da separazione. Ma dirò un accenno per chi non avesse avuto l'occasione di ascoltare la trasmissione precedente in modo da poterci ben collegare alla trasmissione di questa sera. Come sempre perciò vi dirò qualcosa sul tema di cui vogliamo introdurre il dibattito con voi cari ascoltatori, poi abbiamo con noi la gioia di una testimonianza. Questa sera c'è con noi il signor Francesco che ci parlerà proprio a riguardo della dipendenza affettiva nel caso della sua vita e le correlazioni con i problemi della dipendenza dalle sostanze. Vi ricordo cari ascoltatori che la trasmissione è migliore se è fatta insieme con tutti voi. Perciò fin d'ora man mano che andiamo avanti nella trasmissione è un dono prezioso che voi fate quando intervenite con i vostri messaggi. Con il vostro telefono potete scrivere i vostri sms e i vostri messaggi al numero di Radiomater per i messaggi che è il seguente. 331-791-4523 lo ripeto. Per i vostri messaggi scrivete al 331-791-4523 potete dire la vostra opinione sulla tematica che stiamo trattando. Se credete fare domande per i nostri ospiti, aggiungere ciò che noi non abbiamo detto e che può essere utile per migliorare la trasmissione. Potete anche scrivere se preferite le email col vostro computer a diretta-radiomater.org e poi nel corso della trasmissione apriremo le linee telefoniche per ascoltare le vostre telefonate. Vi ricordo che le tematiche che trattiamo potete riascoltarle andando sul canale YouTube. Se usate YouTube potete andare al computer al canale del Kufrad e quindi Kufrad Centro di Cura. Su YouTube digitate Kufrad Centro di Cura e lì trovate le trasmissioni anche da poter riascoltare. E se avete Facebook potete trovare le notizie che pubblichiamo sul quotidiano online alla pagina Kufrad News su alcol e droghe. E ripeto, su Facebook trovate la pagina Kufrad News su alcol e droghe. E sempre su Facebook potete trovare, se siete interessati alle attività della comunità monastica, la pagina Un missionario per amico. Ecco lì potete trovare tutte le varie informazioni. E per iscrivervi in modo da ricevere direttamente sul vostro computer le news di alcologia e patologie delle dipendenze, il quotidiano online, potete andare al sito Kufrad News.it oppure passate dal sito Kufrad.it e vedete dove trovate scritto newsletter, mettete il vostro indirizzo e mail e così ricevete direttamente a casa vostra tutti i vari aggiornamenti quotidiani. Ecco, entriamo nel merito della tematica di questa sera. Cosa ci stavamo dicendo la settimana scorsa? Ci dicevamo, partendo da un punto, la dipendenza affettiva e le correlazioni con l'ansia da separazione. Ci dicevamo che quando non si è avuta la possibilità di separarsi, di crescere, di diventare un individuo autonomo fin da piccolissimi, dopo la nascita, di sganciarsi, diciamo così metaforicamente dal cordone umbilicale del rapporto con la mamma, ma non soltanto con la mamma, con le figure che sono più di attaccamento. E questa separazione non avviene in modo sereno con la capacità di diventare individuo, l'individuazione, staccato da chi ha generato fisicamente oppure che sta generando alla vita, no? Quando non si riesce a diventare un individuo nella condizione di gestire le frustrazioni, affrontare i problemi della vita, sapere che ci sono delle difficoltà, ma che dentro di noi possono esserci le risorse e le potenzialità per superarli questi problemi, quello che si chiama l'autostima. Dunque, quando questo passaggio importantissimo di quando si era molto piccoli non viene opportunamente superato, ci si porta dietro col passare degli anni una ferita, un problema, che non è stato risolto, magari non ci si accorge anche per tanti anni, ma quando interviene un problema importante dentro la propria esistenza, salta fuori, apparentemente dal nulla, ma non viene dal nulla, viene dal nostro passato, salta fuori questo problema. Il tema, il titolo di questa sera, l'ho dato così, l'arte di amare, quando l'amore diventa malato, dalla dipendenza affettiva alla codipendenza. Diremo qualcosa, non tutto, qualcosa su questa tematica. Ecco, troverete un contributo attinto dal sito psicolab.net a cura della psicologa Amelia Gabriella Canovi, ma io vorrei introdurre la tematica di questa sera cercando di non fare le cose complicate, ma di capirci bene, anche perché poi da questo vengono fuori tutti i vostri interventi che aggiungono alla trasmissione cose preziose. Dunque, insomma, che cos'è mai l'amore sano, l'arte di amare? Cos'è? Esiste un amore bello, sano? Mi viene in mente l'amore di Dio, no? Che cosa sarà l'amore di Dio? Cosa succede, secondo cosa ci insegna la Sacra Scrittura, nella vita soprannaturale? Chi si fida di Dio, no? Che succede? Nasce il rapporto di fede e da questa unione con Dio nasce un frutto, come un albero buono che porta un frutto buono, ma quel frutto diventa esterno, non sta chiuso dentro, porta frutto, come l'albero buono che porta frutto. La persona che ha incontrato l'amore di Dio, è vero, irradia la luce di Dio. Lui non è luce, ma è come una lampada, ci dice il Signore Gesù, e la lampada viene messa sul lampadario perché irradia la luce. Non è la luce, ma la trasmette. Nel cammino che ci viene insegnato, questo ci aiuta a capire, quando ci sono dei problemi che non funzionano nelle dinamiche di amore, quando l'amore è malato. Vi ricordate la fede, no? Chi si fida così tanto viene plasmato nella speranza, che si dice è la certezza delle cose che ancora non si vedono. Cioè quando c'è quell'elaborazione, non ti fidi di Dio, ma non vedi ancora i frutti, però stai cambiando. Quell'amore ti cambia. E di lì viene fuori la carità, i carismi, la caris, il frutto. Il Vangelo di Giovanni ci ricorda la parola di Gesù. Io e il Padre siamo una cosa sola. Pensate, il Signore Gesù, non uno... Il Signore Gesù dice, io non faccio quello che voglio. Il Padre mio opera e perciò anch'io opera. È il Padre che agisce, non sono io che faccio di testa mia. Proviamo a trasporre questo nella vita naturale. Adesso dicevo della vita sopranaturale, no? Entriamo nella vita naturale. Nella vita di coppia. Il rapporto di fiducia tra due che si dicono di amarsi, che si amano. E' vero, non se si chiude dentro di sé o se si macera in un problema di dipendenza reciproca. Entriamo nel tema, no? Di stasera. Ma se porta frutto all'esterno della coppia. L'amore è amore vero se porta frutto all'esterno. Che non è più la coppia, ma è il frutto della coppia. Questo succede quando le persone, ci stavamo dicendo, sono cresciute bene. Hanno superato, e il tema di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, la separazione del grembo materno. In modo equilibrato sono diventati individui. E se non sono cresciuti bene, allora bisogna guarire le ferite. Cosa succede quando le persone non hanno avuto questo percorso di taglio del cordone umbilicale, vi ho fatto l'esempio prima, rimangono con quella male da guarire, per cui tutti i rapporti di coppia che vorranno costruire, intanzitutto non incontreranno Dio veramente. O ne saranno sudditi, o vorranno tiranneggiarlo. Ma non incontreranno l'amore di Dio, perché non sono guariti. Giusto? E anche nella vita dell'uomo naturale, quando vanno cercando qualcuno, non troveranno una persona a pari col quale portare frutto, ma cercheranno qualcuno che sia lo riempimento dei propri bisogni. Sono bisogni opposti che cercano di colmare i loro vuoti. Allora, c'è una persona che sentirà il bisogno di aggrapparsi, non ha superato il momento del diventare un individuo autonomo, ha un vuoto da riempire, non si sente completo, non è diventato uno, l'unità, no? No, lui è sempre gli manca un pezzo. E dove va a cercarlo questo pezzo? Eh, allora, le sostanze d'abuso, alcol, droghe, comportamenti di dipendenza, adesso ce n'è così tante addiction, come si dicono, no? Comportamenti di dipendenza, oppure una persona a cui aggrapparsi che fa la funzione di una sostanza, praticamente, dipendenza affettiva. Vorrei dirvi, vi ricordate il fratello minore della parabola del padre misericordioso? Non è cresciuto bene, ma scappa, gli manca qualcosa, fugge a un vuoto, ah, non mi basta stare dentro la casa del padre, non aveva incontrato il padre veramente, non l'aveva incontrato. Allora va in giro cercando l'altrove, ma guarda un po', va a farsi schiavo di tutto quello che trova. La parabola ci racconta bene. Va a farsi schiavo di tutto. Usa tutte le sue risorse e le sue sostanze, ma per schiavizzarsi. E alla fine, anche quando non ha più niente, va a fare il servo. Povero uomo. Costui che va cercando qualcuno a cui aggrapparsi, ma quale persona cercherà, secondo voi? A chi si aggrapperà? Cercherà una persona che abbia un bisogno opposto. Giusto? Cercherà una persona che ha bisogno di accudire qualcun altro, di prendersi cura. Qualcuno che dice, ah no, ma qui ci sono io, hai bisogno? Ecco, sono qua io. Però quella persona che dice, ci sono qua io, in realtà è piena di problemi. Uguali, ma opposti alla precedente. Perché? Deve sentirsi utile. Deve servire a qualcuno. Deve fare, fare, fare. Capace di strisciare per terra, di essere a servizio di quell'altro. Ma non tanto perché gli importi di quell'altro, perché esiste tanto sente di dire qualcuno per qualcun altro. Lo rivedete voi, forse, cari ascoltatori, il fratello maggiore della parabola del Padre Misericordioso. Ah, qui faccio tutto io, no? Faccio tutto io. Sono io che ho fatto tutto. Vedi, io ti ho servito, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, io ho organizzato tutto, mi massacro di lavoro e tu, Padre, non ti sei accorto di me. Pensate. E faccio tutto io. E' un po' come quell'altra parabola del Veccello che dice Ma signore, ma noi nel tuo nome, uh, nel tuo nome, noi abbiamo fatto i miracoli, abbiamo fatto le opere sociali, abbiamo fatto questo e quell'altro, ma il Signore dice guarda che io non ti ho mai incontrato. Lui non ha mai incontrato il Padre. Ha incontrato solo se stesso, i suoi bisogni. Era un suo bisogno vivere così. Quando è che il rapporto tra questi due malati si rompe? si rompe quando uno dei due non ha più bisogno del proprio rapporto malato con quell'altra persona malata. Quindi, o perché diventa autonomo, è cresciuto, è guarito, ma non ti amo più, no? Non so perché, non ho più bisogno. si erano incontrati non perché si amassero, da quella unione non veniva un frutto buono. Avete visto? Oppure, perché la persona che accudisce, ed è quello di cui si parla stasera, fugge dal legame che gli è diventato troppo stretto. Sì, sì, per me andava bene accudire, avevo bisogno di accudire, ma adesso diventa asfissiante. E andava bene al primo, ah, io ho bisogno di aggrapparmi perché non sono cresciuto abbastanza da vivere autonomamente, o libero, no libero, da costruire un buon rapporto di coppia. E va bene, chiudiamo quella parte. Arriva l'altro, ah, ma ci sono qua io, vedi, ci sono qua io, e quell'altro gli va bene, ma viene anche un momento che questo che dice ci sono qua io, quando l'altro si aggrappa troppo, troppo dice, ah no, ma allora io scappo. Come scappa? Ecco, scappa, perché va al di là del suo bisogno di accudire qualcun altro, e come scappa? Sovente a solito scappa di nuovo nelle dipendenze, nelle droghe, nei comportamenti di fuga, fuggire, fuggire. Ecco, allora, cari amici, io vi dico ancora due o tre cose, ma solo due o tre minuti per aggiungere, perché penso che questo quadro ci dà un po' già di idee. Poi, ascoltiamo i nostri ospiti, e intanto voi cominciate a scrivere, dire i vostri pareri, le vostre considerazioni da aggiungere. Ecco, allora, vedete, fugge, costui fugge, come fugge? Lo studio che vi sto presentando questa sera ci fa l'elenco di alcuni meccanismi di fuga, le tossicodipendenze, l'abuso di sostanze tossiche, comportamenti che danneggiano l'individuo e va bene dal punto di vista della salute, il lavoro, eccetera. Poi ci sono delle dipendenze sommerse, dipendenze da sesso, da lavoro, da shopping compulsivo, cioè da andare a fare acquisti, il mangiare, dipendenza dallo sport e tutte situazioni di addiction, da gioco e tante altre di cui sovente parliamo. La dipendenza affettiva di cui stiamo parlando non si vede dall'esterno perché la persona non va a fare le rapine o a rubare per avere dei soldi per comprarsi la droga o non lo vedi tutto sballato per strada perché è pieno di alcol oppure non lo vedi in altre situazioni disagevoli evidenti, ma quella persona è distrutta, è distrutta, è distrutta perché lo vedete che i due si consumano, allora c'è il dipendente e l'altro che talvolta viene chiamato codipendenza, eccolo lì, quello di cui stiamo parlando questa sera perché poi sovente questi giochi di ruolo si possono anche invertire, quindi uno si aggrappa, l'altro fino a quando gli va bene gli va bene poi comincia a fuggire, ma poi succede che quell'altro quando è scappato si trova nella situazione di debolezza, lo vedete? E quando è così debole è lui la parte debole e allora arriva l'altro che si aggrappava e dice no ma adesso io ti salvo perché quando ti avrò salvato tu mi accudirai, pensate che disastro nella vita di coppia talvolta, il bisogno di inseguire nell'uno e speculare al bisogno di rifiutare da parte dell'altro e questo lo sapete quando poi c'è il problema dell'alcolismo è immediato, no? Ognuno ce l'ha presente, ah ti vengo, ti salvo io, ti salvo io, ma nella codipendenza è un dipendente della bottiglia, l'altro dipende da colui che dipende dalla bottiglia, si sa, ecco, solo più un minuto, che cosa succede? La persona che è codipendente dice il nostro rapporto non funziona perché comincia a dare la colpa a qualcos'altro, se non ci fosse l'alcol o quell'altra donna o il gioco, il calcio, o la cocaina o così via, no? Ah, se non ci fosse quello, dalla colpa all'altro, non ha capito il problema che sta dentro di sé. Cosa è successo? Ritorniamo e chiudiamo il cerchio. Entrambi non sono cresciuti in modo sano al momento giusto. Non sono capaci di accudire se stessi. Eh, ma allora vuol dire che non c'è più amore? No, 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 per questo ho cominciato dalla fine questa sera, cari ascoltatori, perché quando vi ho fatto l'esempio dell'amore di Dio, amore soprannaturale, è proprio quando tu sei cresciuto libero, libero, che lasci liberi tutti. Chi è libero veramente lascia liberi tutti. Chi invece è pieno di problemi vuole usare gli altri. Quando sei diventata la persona libera, libera allora nel rapporto soprannaturale con Dio o umano con quell'altra persona con cui condividi la vita, siccome non ne hai bisogno ma vivi l'amore, allora da quell'albero buono verranno tanti frutti buoni. Ecco, e questo è molto, molto importante tenerlo presente. Cari amici, ascoltiamo i nostri ospiti, scriveteci, allora vi dico subito di nuovo il numero da fare per i vostri messaggi 331 791 4523 e scrivete i vostri messaggi al 331 791 4523 e le vostre email scrivete a diretta chiocciolaradiomater.org ascoltiamo il dottor Rossetti Buonasera a tutti abbiamo sentito descrivere bene la fenomenologia della dipendenza affettiva come si manifesta come si sviluppa io cercarei di spendere due parole ancora sui meccanismi interni della dipendenza affettiva cercando di puntualizzare come si differenziano rispetto invece alla capacità di amare quella autentica quella matura diciamo subito che il problema della dipendenza affettiva in qualche modo coinvolge tutti perché credo nessuno di noi può dire di avere una gestione dell'affettività perfettamente equilibrata e matura probabilmente quella affettiva è una delle dipendenze più diffuse e meno riconosciute anche più accettate ma in qualche misura forse ognuno di noi può riconoscerne almeno una traccia dentro di sé ognuno di noi si sa nelle proprie relazioni affettive come in ogni comportamento si porta dietro tutto il bagaglio delle esperienze che ha vissuto fin da quando era piccolo fin da quando era infante quali sono le esperienze che sono più in grado di influenzarci di condizionarci soprattutto a livello affettivo beh lo sappiamo lo ha detto anche Fabrizio nell'introduzione sono soprattutto le prime esperienze con la madre perché questo ma perché il rapporto con la mamma è assolutamente unico insostituibile noi viviamo nove mesi incorporati nell'organismo materno poi per alcuni mesi viviamo una simbiosi pressoché totale con lei e poi via via iniziamo a differenziarci a separarci ma con un'importanza assolutamente centrale dei rimandi che la mamma ha verso il bambino per la possibilità nostra di crescere di maturare e di riuscire gradualmente a svincolarsi dalla dipendenza che abbiamo invece inizialmente da lei pensiamo solo per fare qualche esempio all'importanza che ha per un bambino sentirsi stretto in abbracci caldi amorevoli rassicuranti questo perché è come se ricordasse al bambino quella sensazione di totale protezione che viveva nel grembo materno pensiamo a quanto è importante per il bambino sentirsi gioiosamente amato dai suoi genitori questo in tutte le fasi della vita ma soprattutto nelle prime fasi questo è come se instillasse nel bambino un'energia una fiducia particolare che può derivare soltanto da questo tipo di esperienze che sarà poi la base per la costruzione della sua identità del senso del sé teniamo conto che il bambino costruisce la sua struttura psichica la sua personalità diciamo così inizialmente interiorizzando proprio queste esperienze no? è come se interiorizzasse la figura stessa del genitore per cui è di vitale importanza per il bambino poter interiorizzare un'immagine buona positiva del proprio genitore questo per esempio spiega perché quando succede che un genitore non non corrisponde ai bisogni del bambino li frustra in maniera eccessiva il bambino normalmente reagisce non come dire colpoevolizzando il genitore ma cercando dentro se stesso quello che non va comincia a avere la sensazione di essere sbagliato tra virgolette di non essere meritevole di affetto di non valere e questo proprio per cercare di salvare tra virgolette l'immagine che ha del genitore chiaramente come potete immaginare in questi casi però il bambino fin da piccolo inizia a portarsi dentro delle sensazioni di vuoto come si diceva delle ferite da cui poi nascono dei bisogni che spingono per essere compensati e possono spingere anche tutta la vita alcuni di questi bisogni sono proprio quelli che agiscono nel orientare nel guidare per esempio le nostre scelte affettive perché scelgo quella persona lì e non quell'altra sia chiaro non voglio dire che la psicologia possa spiegare fino in fondo i meccanismi della scelta affettiva io credo che non riusciremo mai del tutto a spiegare perché due persone riescono ad amarsi per tutta la vita ecco c'è un quid di inspiegabile veramente una scintilla divina che non può essere altrimenti che anima tutto questo però la psicologia aiuta spesso a capire quali sono le nostre inclinazioni rispetto all'affettività facciamo un esempio pensiamo a una donna che abbia avuto un padre ma anche una madre eventualmente particolarmente autoritaria sempre un po' fredda che mantiene le distanze magari pensando che quello sia il modo migliore per educarla che la fa sentire spesso magari senza volerlo inadeguata un po' incapace eccetera probabilmente questa bambina poi questa ragazza questa donna conserverà dentro di sé un bisogno di sentirsi invece riconosciuta amata e sentirà di dover sempre dimostrare agli altri che merita l'affetto è abbastanza probabile che questa donna nel suo compagno che troverà magari nel marito di queste persone si riscontrino a dei tratti che assomigliano abbastanza a quelli del papà o della mamma proprio perché lei ha bisogno di poter dimostrare che merita l'affetto allora cerca una persona che gli ricordi un po' il papà che sia magari proprio un po' autoritaria come il papà perché è come se ci fosse il desiderio inconscio di riparare a quella mancanza che c'è stata nell'infanzia attraverso la persona amata solo che cosa succede spesso si creano queste situazioni di codipendenza come si diceva si va a trovare una persona che ha un bisogno complementare al nostro io ho bisogno di sentirmi un po' di sentire che devo sempre dimostrare di meritarmi l'affetto e dall'altra parte trovo una persona che invece a causa della sua storia di vita ha bisogno sempre di schiacciare un po' l'altro di sentirsi superiore di sottomettere le persone a cui anche vuole bene e queste sono le situazioni un po' più pericolose perché rischiano di diventare un po' stagnanti di durare nel tempo perché la dipendenza affettiva classica in genere non può durare molto a meno che non si crei una codipendenza perché o c'è la guarigione oppure la coppia la coppia salta concludo vorrei dire ancora due parole rispetto ai problemi di coppia io adesso come vedete sto descrivendo anche delle situazioni piuttosto sfumate che magari riscontriamo un po' anche in noi stessi poi ci sono quelle più patologiche chiaramente che arrivano anche a forme molto drammatiche come lo stalking eccetera ma parliamo di situazioni più comuni a me sembra che molto spesso nelle coppie anche giovani a volte si arriva prematuramente alla decisione magari di separarsi concludendo frettolosamente non siamo fatti l'uno per l'altro abbiamo capito insomma non ce n'è quando invece si trovano semplicemente di fronte a un passaggio di crescita direi inevitabile perché come dicevo ognuno nel rapporto affettivo come dire ritrova un po' tutti i nodi vengono al pettine tutte le cose i bisogni anche molto antichi che abbiamo dentro di noi vengono fuori e non sempre dall'altra parte la persona è in grado di soddisfarli e allora è stando insieme che si può superare queste tappe di crescita il riuscire a vivere un'affettività matura duratura non è una cosa data e scontata è una conquista al frutto di un percorso e allora dispiace spesso vedere questi rapporti che si interrompono perché anche il perdere un'occasione importante di crescita lo stare insieme spesso il condividere questa difficoltà aiuta entrambi a crescere e magari anche a riscoprire i fondamenti del loro rapporto amoroso grazie dottor Rossetti intanto cominciano ad arrivare le vostre considerazioni i vostri messaggi le vostre domande ringraziamo Carlo che ci scrive dicendo così buonasera sono d'accordo su tanti concetti che ho ascoltato questa sera mi permetto però di sentire su una cosa è vero che i bambini devono staccarsi prima o poi dal genitore ma non credete che oggi si stia esagerando nel pretendere e vedere che in giro ci sono dei piccoli uomini siamo in una società che brucia le tappe e rischiamo di perdere il ruolo dei genitori e così ci scrive Carlo io lascio la risposta allo psicologo dottor Roberto Magurno anticipando questo elemento mi sembra che ci sia un po' un equivoco in quello che ci scrive Carlo e forse in quello che abbiamo descritto in realtà il problema di oggi è che i giovani rimangono degli adolescenti interminabili che non crescono mai il problema più diffuso oggi è dei giovani che non diventano adulti mai è vero che giocano a fare i grandi fin da piccolissimi ma poi non diventano mai adulti pensate come le generazioni che ci hanno preceduto i giovani erano portati dagli eventi della vita a costruirsi la propria strada la propria famiglia la propria vita prendendo decisioni quello che vedete che accade è che molti giovani vanno avanti e anche all'età ormai adulta al tempo dei percorsi universitari in tanti casi non riescono a trovare la propria direzione è come se dovessero sempre rimanere agganciati a un qualche cosa malgrado vedete l'equivoco e l'ambivalenza da un lato giocano a fare i grandi ma mai del tutto dottor Magurna grazie buonasera a tutti gli ascoltatori buonasera al signor Carlo cercherò di rispondere alla domanda del signor Carlo rimanendo comunque in quello che è l'argomento principale di questa sera che è la dipendenza affettiva se andiamo a trovare il significato della parola affettività ci riconduce al verbo affectus tale verbo ci dice che è attaccare quindi ma è stessa ci parla di attaccarsi in questo caso a una persona e commuovere lo spirito quindi l'affettività è forte è potente e ci riconduce a quello che è l'altro significato della parola affettus e cioè quello di rendere infermo il corpo cioè capite quando è potente di per sé l'affettività tanto da diventare poi una dipendenza una dipendenza molto sommersa rispetto alle altre dipendenze qui abbiamo avuto l'occasione di parlare di dipendenze da gioco dipendenze da droghe parlare di dipendenza affettiva è parlare di una dipendenza invisibile non riconosciuta ma che fa male che porta molta sofferenza e credo che sono assolutissimamente d'accordo con quello che diceva Fabrizio il padre ripetendo la parabola l'esempio che riportava il padre lascia andare il figlio perché è il ruolo del genitore riuscire a dare un esempio positivo e avere il coraggio la libertà che ha avuto egli stesso in precedenza quindi lasciarlo andare e proprio questo è lo sviluppo della leziopatogenesi della dipendenza affettiva sta nel fatto che i genitori quindi non mi voglio riferire né a un padre né a una madre ma la coppia genitoriale nei confronti del del bambino della bambina non si focalizza sui bisogni dello stesso in una fase molto importante che è la fase nella quale deve essere da esempio successivamente nella fase adolescenziale che si subvengiano altre dinamiche per cui il genitore può essere anche come dire non più da esempio ma vedere crescere i propri frutti come abbiamo detto vedere come stanno crescendo credo che il signor Callo voglia dire che forse sono i genitori che vuoi per la società che ci impone comunque degli orari per cui non non si riesce a seguire principalmente il bambino così come invece in una società più agricola si riusciva a fare vuoi per tanti tipi di fattori che non sta a me elencare adesso si perde di vista quello che è la capacità genitoriale di essere da esempio e di arrivare all'individuazione quindi spero intanto di aver risposto alla domanda del signor Carlo e voglio comunque continuare ad accennare al fatto che la dipendenza affettiva composti sofferenza perché perché si innesca un circolo vizioso il circolo vizioso è che la persona che è dipendente affettivamente da un altro non più quindi da una droga in questo caso ma da da una persona che cosa fa fa che mettere i suoi bisogni sotto quelli dell'altro che cosa fa non li vede proprio a volte non riesce se si fa la domanda non riesce a dire quali sono i propri bisogni perché è come se fosse devoto all'altra persona e quindi che cosa succede che cerca di soddisfare totalmente i bisogni dell'altro ma l'altro che cosa fa vuoi che magari va in giro con gli amici o va a espletare quelli che sono dei propri spazi nel momento in cui lo fa la persona che ha la dipendenza affettiva interpreta in maniera errata questi tipi di allontanamento per cui comincia ad andare in panico comincia a provare terrore di essere lasciato di non avere più quella persona da soddisfare su cui riversare tutte le proprie energie e quindi di fondo che cos'è quello che è auspicabile auspicabile un senso di individuazione quindi la persona deve essere aiutata la persona affetta da dipendenza affettiva deve essere aiutata a trovare un'individuazione l'individuazione di cui si parlava no e quindi aiutata nel processo di adultizzazione passate nel termine che è quello che lo stesso che non è stato propriamente fatto nella fase nelle tappe nelle tappe di quando si è bambini quindi la psicoterapia si focalizza su questo e vorrei chiudere il mio intervento ricordando quello che è il monito ma comunque l'esortazione che ci ha lasciato Papa Giovanni Paolo II cioè quello di prendere in mano la propria vita e farne un capolavoro grazie grazie dottor Magurno cari amici scrivete i vostri messaggi al 331 791 4523 sono tutti importanti i vostri messaggi ne è arrivato un altro che dice come posso trovare un sito o un libro che parla di queste tematiche e poi si complimenta per questo programma io lascerò poi i riferimenti che darà il dottor Rossetti direttamente ecco allora per i vostri messaggi 331 791 4523 oppure scrivete a diretta chiocciola radiomater punto org e potete telefonare per la diretta per parlare direttamente con i nostri psicologi e porre le vostre domande fare le vostre considerazioni telefonate alla diretta di radiomater 031 64 60 00 intanto ci viene chiesto come fare per parlare con gli psicologi del Kufrad in altri giorni e ce lo chiede Marco da Pisa e confermo che potete telefonare alla sede centrale tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e telefonando al seguente numero 0172 55 294 lo ripeto 0172 55 294 e potrete parlare direttamente con il dottor Rossetti il dottor Bozzato la dottoressa Albera ecco che sono proprio a disposizione per questo e arriva un altro messaggio che ci dice così buonasera io sono la figlia più piccola di tanti fratelli e mi rendo conto che ho avuto una mancanza di affetto quando ero piccina il papà lavorava la mamma era molto indaffarata ora che io ho due figli sento che ho talmente tanto attaccamento a loro che ho paura di non farli crescere bene di non lasciarli camminare con le proprie gambe è meglio lasciare più indipendenza oppure seguirli sempre i miei figli hanno uno 25 e l'altro 19 anni dottor Rossetti sì brevemente mi sembra che questa domanda rivela una sensibilità molto importante in questa mamma di chiedersi ma non sarò troppo presente dovrò forse lasciare più spazio ai miei figli mi riallaccio un po' a quello che diceva il collega prima e anche nell'introduzione l'esempio della parabola del padre misericordioso questo padre che a un certo punto anche di fronte a una scelta che vede sbagliata chiaramente sbagliata lascia la libertà al figlio ma poi sta ad aspettarlo alla finestra come sappiamo per lungo tempo quello che serve ai figli soprattutto nell'età dei suoi figli e soprattutto il fatto di poter contare su questa presenza che c'è sempre che è lì che ti aspetta che ti ascolta che ti capisce che non ti giudica che si sforza di entrare nei tuoi pensieri senza importi il proprio pensiero che magari è legato a uno salto generazionale per cui è sempre difficile entrare nell'interiorità dei propri figli ecco penso sia questo importante lei posso dare un consiglio abbia cura soprattutto di far sentire ai suoi figli sempre questa presenza ma nello stesso tempo è anche fondamentale che si sentano liberi di poter fare esperienze di crescita sapendo di poter sempre tornare indietro di trovare un supporto nella famiglia grazie dottor Rossetti adesso ascoltiamo il signor Francesco che ci porta la propria esperienza direttamente e ricordatevi per i vostri messaggi scrivete 331 791 4523 oppure scrivete a diretta chiocciolaradiomater.org oppure telefonate in diretta allo 031 64 60 00 ascoltiamo il signor Francesco sì buonasera la prima cosa che mi viene in mente è che sarebbe bello dire che conosco una ricetta per risolvere la dipendenza affettiva sentendo parlare quelli che ormai qui considero i miei punti di riferimento più che altro mi viene da pensare a me e alla mia esperienza soprattutto in alcuni punti quando si parla di mamma di figlio io sono stato lasciato da mia madre che ero molto piccolino perché lei ha deciso di rifarsi una vita da un'altra parte lontano da me con altre persone da quel momento io sono diventato tutto tranne che quello che volevo realmente quindi per assurdo sono andato bene a scuola per un periodo per fargli capire che io ero il figlio che lei sognava quando questo non ha funzionato sono diventato il più cattivo della classe quando ancora questo non è bastato ho cominciato a essere violento a rubare a usare sostanze ad arrivare al punto di distruggere anche il mio corpo se questo in qualche modo poteva essere un segnale dicevo non non c'è una ricetta vera e propria però è forse neanche solo la fortuna diciamo che per allontanarsi da questa roba qua c'è bisogno di stimoli c'è bisogno di buona volontà il tempo gioca un ruolo fondamentale ma la cosa che più ti mette veramente a contatto con questa consapevolezza è l'equilibrio proprio oggi facevo un colloquio con con un dottore e mi rendevo conto che ad un certo punto del mio percorso avevo instaurato proprio una dipendenza affettiva dall'operatore che mi seguiva mostrando a lei di essere sempre all'altezza di essere sempre giusto di essere sempre pronto adulto responsabile perdendo di vista quello che veramente volevo essere io e quindi zero identità nessun ingrediente di questo mi faceva sentire veramente adulto cresciuto ma potrei aggiungere altri punti quali l'avere avuto un padre che scappava continuamente mentre io lo inseguivo perché volevo diventare come lui e mi sarebbe piaciuto sentirmi dire che era orgoglioso di me forse quella un po' più forte più recente è che io non molto tempo fa insieme alla mia compagna ho perso la figlia che aspettavamo subito dopo questo abbiamo deciso di separarsi e nella mia mente se in qualche modo avevo accettato di avere perso una bambina non potevo accettare di perdere anche lei perché lei era più importante perché lei era lì lei riusciva a darmi tutto quello che mi è sempre mancato ma possono essere anche solo cose apparentemente senza valore pensavo a quando mamma se n'è andata era un periodo che io dormivo con lei e la sera prima di addormentarmi gli chiedevo di accarezzarmi o di farmi toccare i suoi capelli e di giocarci finché non mi addormentavo questa roba qua l'ho riproposta con la mia compagna quindi gli dicevo so che sei stanca dal lavoro però dai prima di addormentarti toccami un po' la manina fammi giochicchiare con i tuoi capelli di fronte alle volte in cui c'era rifiuto stavo male non riuscivo a capire perché avessi così tanto bisogno di quella roba lì che cos'è che io cercavo in lei probabilmente tutto ma non la mia compagna sono sono altri gli esempi che ancora potrei potrei citare però quello che voglio solamente dire è impegno quotidiano senza ipocrisia dipendiamo comunque dalle relazioni che ci circondano l'importante e farlo con equilibrio e con consapevolezza questo sì grazie Francesco abbiamo soltanto più due minuti e per leggere un ultimo messaggio e per avere una brevissima risposta da parte degli psicologi ospiti questa sera Bruno di Ortona ci scrive dicendo buonasera nella mia adolescenza e in parte nella vita adulta spesso mi è stato detto che non mi sono staccato dal cordone umbilicale a causa di certi comportamenti e io ho sempre sofferto di questa espressione soprattutto in età adulta perché chi me le diceva non considera il mio passato da bambino ho sofferto sia per le mie malattie sia perché a causa del brutto carattere di mio padre vedevo chiaramente la sofferenza di mia madre oggi che i miei genitori sono morti non mi sento perso ma ho scoperto che a causa della grande compassione che avevo per mia madre ciò frenava la mia vita ascoltiamo una brevissima risposta dottor Rossetti senza nessuna pretesa di essere esaurienti chiaramente mi sembra una situazione in cui in modo abbastanza chiaro emerge una difficoltà che ha avuto questa persona a identificarsi come una figura paterna che è quel modello che normalmente ci aiuta a trovare il nostro posto nella vita nella società ad avere una guida interiore eccetera mentre ha sviluppato invece un attaccamento molto forte per la mamma di cui aveva questa compassione come diceva molto bene e questa cosa se da un lato probabilmente gli ha permesso di sviluppare io penso una sensibilità affettiva forse anche superiore alla norma dall'altro come lei ben ha capito l'ha un po' frenato nelle scelte di vita nelle sue potenzialità la consapevolezza che ne ha avuto soprattutto i vissuti che prova adesso dopo la morte dei genitori penso siano un ottimo punto di partenza per comunque cercare di superare questi freni che forse ancora un po' sente dentro di sé grazie dottor Rossetti grazie per essere stati con noi cari amici siamo in chiusura il prossimo appuntamento con il Kufrad è per giovedì 19 novembre sempre alle 17.35 sui problemi del disagio e delle dipendenze da sostanze o da comportamenti potete se volete trovare approfondimenti sul sito kufrad e invitandovi a rimanere all'ascolto delle trasmissioni di Radio Mater col canto finale restituiamo la linea alla regia centrale grazie io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini io sogno che l'amore del Signore venga rivelato a tutti gli uomini dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Testimoni del cielo rubrica sul disagio in diretta dal Kufrad di Somma Riva del Bosco in provincia di Cuneo come già annunciato il prossimo appuntamento sarà giovedì 19 novembre sempre alle ore 17.35 Radio Mater la radio che porta la chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia Toscana Oggi il settimanale alla radio un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi ben trovati all'appuntamento con Toscana Oggi un numero davvero speciale questa settimana ovviamente non poteva essere che così un numero dedicato alla visita di Papa Francesco la prima visita in Toscana quindi pagine sul giornale normale ma anche speciali di 50 pagine sia su Firenze che su Prato allora andiamo con ordine apertura del giornale arriva Francesco l'editoriale un momento storico per tutta la Toscana effettivamente non può essere che così non è esagerato dirlo non è esagerato parlare di momento storico per tanti motivi appunto perché è la prima visita di Papa Bergoglio in Toscana quella che farà a Prato e a Firenze ed erano 30 anni che un Papa non tornava in queste due città l'ultima visita in Toscana quella di Benedetto XVI ad Arezzo però dicevamo questa è una visita storica anche perché si lega a un altro evento di importanza notevolissima come è il convegno ecclesiale nazionale in fondo il Papa viene essenzialmente per incontrare i 2.500 delegati al convegno nazionale ecclesiale che si svolgerà dal lunedì 9 a venerdì 13 a Firenze e che avrà